Salve a tutti da Joker Games. Allora sto prendendo le scorte qui, devo prendere, ma qua si fa botte, ho il tequila. Mi massacrano, però devo rubargli a qualcuno di questi. Capito? Ok. Allora ci arrivano il resto che c'è su nel salone. Guarda quanti sono. Ma comunque questo qui lo fanno, è bello perché all'inizio del gioco, quando tu vai qui, adesso vado qua, vedete la mia forza? È al massimo. No? Quindi ai tempi dovevo pestare gente per strada e farla salire. Invece qua dentro è più comodo, fai prima. Vieni qua, maiale. Vieni qua. Ma schivate. Vieni qua, stronzo. Vieni qua, tolta. Pezzo di merda. Stese in quattro, dieci, con le bottiglie. Oh, loro hanno le bottiglie in mano e le mazze. Io niente, a me non mi dà niente, niente per andare a combattere. Guarda, sono dei mazze in meno. Adesso vi porto via le risorse. Vieni qua, stronzo. Ah, con le bottiglie, ah, ah. Con la bottiglia rotta. L'ho preso, l'ho preso. Ciao, stronzi. Ciao, stronzo. Faccio come Renato Pozzè. Faccio come Renato Pozzè. Faccio come Renato Pozzè. Tutta secca. Vedete? Sono le prime di oggi. Ok, il video lo concludo qui? Ma no, no, lo finisco, dai, con tutte le cose che devo fare così le faccio, faccio vedere cosa si fa dentro. Mi piace comunque. Mi piace, neanche, non sto facendo più, neanche i colpi a, a lì, a coso. Ok. Come si chiama? Da, ehm, il rubio. Questo qua mi piace, mi piace molto, perché fa, è varia. È variabile. Finisco questo video qui, recupera le risorse della, della serra, questa qui dovrebbe essere, serra di erba. Ok, andiamo giù. Mai sparare, mai, mai, se no le, le perdi. Butti una bomba, una cosa. Ehi, ciao, amico, come va? Sì, ciao, amico. e poi c'è un po' di shadow c'è un po' di down e poi c'è un po' di cuore you can't hide son of a bitch un po' di 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 di un po' di un po' di un po' di un po' di